Ciao amici di All4Shooter, sono Stefano, o meglio conosciuto come Panda Custom. Il mio lavoro è quello di preparare, personalizzare e customizzare repliche su richiesta del cliente. Qui abbiamo un esempio di MK12 SOP Mod 0, dove abbiamo copiato la verniciatura dal film Lone Survival, clonando i colori della replica. Di fabbrica abbiamo dei piccoli particolari in CNC, abbiamo aggiunto un silenziatore ed è semplicemente preparato. Ciao a tutti!